Vi invito a rimandare sul web questa notizia più che potete, molto importante, perché è già evidente che le multinazionali, il potere delle grandi case farmaceutiche, fra di tutto per bloccare la divulgazione di questa notizia, ne è prova il fatto che nonostante ci sia stato un comunicato stampa, nessuno ha riportato questa notizia, delle grandi testate o dei grandi telegiornali. Trovata la molecola antitumore, una scoperta tutta italiana, questa è la notizia già verificata da molti di noi giornalisti, però poi non hanno potuto pubblicarla. La ricerca italiana, nonostante crisi e tali, ottiene l'ennesimo incredibile risultato, in pratica due ricercatori dell'Università di Urbino, due ricercatori precari, attenzione, dell'Università di Urbino, Mirko Fanelli di 45 anni di Falconara e Vieri Fusi, 48 anni di Fiorentino. I due studiossi hanno trovato una molecola antitumore che spinge al suicidio le cellule malate. in particolare hanno modificato chimicamente una singola molecola, il maltolo, una sostanza naturale contenuta nel malto, nella cicoria, nel cocco, nel caffè e in moltissimi altri prodotti naturali, sviluppando in questo modo una nuova classe di molecole che si chiamano malten e maltonis, con attività antineoplastica. Tutto questo è partito in un laboratorio di patologia molecolare, spiega Fanelli, e con il gruppo di ricerca del laboratorio di chimica è stato poi possibile individuare una famiglia di composti capaci di svolgere queste funzioni desiderate, cioè sostanzialmente hanno trovato una molecola che induce le cellule tumorali al suicidio. Ora, non deve passare tempo per la sperimentazione, bisogna avere immediatamente la divulgazione di questa notizia perché chi deve faccia subito qualcosa. Questa è forse la prima volta che la notizia è di tale rilevanza. Testata, verificata, queste cellule sono in grado di essere indotte al suicidio da questa sostanza. È qualcosa di straordinario, non stiamo parlando di una medicina, parliamo di un prodotto naturale che è attivato in un determinato modo, spinge le cellule tumorali a non riprodursi perché si suicidano, cioè interrompono automaticamente il proprio ciclo vitale. Per favore divulgate questa notizia il più possibile, più saremo sul web e più riusciremo a fare in modo che se ne interessino le grandi testate giornalistiche, i telegiornali, i programmi televisivi perché evidentemente c'è un interesse a far sì che questo non avvenga, oltretutto è anche un prodotto praticamente naturale, anche se poi bisognerà sviluppare una medicina da questo e immaginate cosa c'è dietro la cura del cancro a livello di interessi mondiali per quanto riguarda i farmaci, l'assistenza e tutto il resto. Mi raccomando, divulgate, 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 finalmente una bella notizia, cerchiamo di renderla il più possibile diffusa, almeno sul web.